Sono ore drammatiche per la palestra di pugilato partenopea Napoli Box, gestita dal maestro Lino Silvestri, figlio della stella della box napoletana Geppino. Per i locali della palestra, situata in via Vico Sottomonte ai Ventaglieri, sono scattati i sigili della polizia municipale a seguito di un'ordinanza di sgombero firmata dal comune di Napoli, quest'ultimo proprietario. Alla Napoli Box viene contestata la morosità relativa al canone di affitto della struttura. Ecco le parole del maestro Silvestri. Noi dobbiamo restituire al comune per un danno erariale di quasi 2 milioni di euro perché hanno voluto considerare i 500 euro stabiliti dal primo momento in cui ho messo piede qua con un regolare bando, 500 euro a fronte di una ristrutturazione di un locale abbandonato e faticente. Poi l'appello diretto al sindaco Gaetano Manfredi. Sindaco, scendi da San Giacomo, non parlare più con Mattarella e col Papa solamente. Tu sei il sindaco di una città proletaria ancora, per fortuna, perché noi amiamo i proletari. Vieni in questi vicoli e vieni a vedere che cosa facciamo per i ragazzi e vieni a vedere soprattutto dove stiamo. Gli ambienti della Napoli Box negli anni hanno rappresentato un vero simbolo di riscatto sociale ospitando ragazzi provenienti da situazioni delicate. C'è anche chi, nonostante abbia cessato la propria attività agonistica da anni, dà il suo contributo alla struttura, come l'ex allievo Gennaro Merillo. Sentiamo. La palestra è l'unico punto di sfogo, l'unica soluzione per non fare altre cose. Adesso sì, mi trovo molto rammaricato perché adesso che ho 40 anni ci torno volentieri, aiuto i ragazzi, aiuto l'allenatore all'unolino. Durante la visita dei caschi bianchi presenti anche l'avvocato della palestra Napoli Box, Giovanni Celestino. Se dovessero andare via, almeno fino a luglio, che finiscono di usufruire quanto hanno pagato, penso che si possa fare, questa è una cosa proprio lecita e umana che si possa fare, non penso che sia andato oltre l'impossibile. Grazie.